E' appena iniziato il campionato di promozione del basket maschile. Il Massa Basket 2010, inserito nel Girone, non parte nel migliore dei modi, subendo tre sconfitte in altre tante gare. Dopo il pesante scivolone in casa del Bellaria, meno 33, al debutto in Romagna, i ragazzi di Boschi perdono anche al debutto casalingo contro un buon San Felice Bologna, mostrando comunque miglioramenti che sono emersi ancora più evidenti nel corso della terza gara a Castel San Pietro. In questa partita, Pinardi e i compagni restano aggrappati al match fino a pochi minuti dalla fine. Osservando dunque il trend delle prime esibizioni, ci può ipotizzare un'inversione di tendenza per i mascesi.